In questi giorni si stanno registrando forti tensioni anche all'ospedale di Sora. Stanno trasferendo i medici dai reparti alla Casa della Salute di Ponte Corvo, mentre è a rischio la sopravvivenza dei reparti di cardiologia, medicina trasfusionale, pediatria, ostetricia e ginecologia. E si cancellano i posti letto per i pazienti oncologici. Il timore è che vengano effettuati tagli al personale. Sul caso denunciato dal Movimento 5 Stelle interviene il sindaco di Sora Ernesto Terzigni. Nessun depotenziamento, nessuna chiusura assicura. Il primo cittadino annuncia che il reparto oncologico promesso dal direttore generale per il nosocomio Sorano sarà attivato da settembre. Sentiamolo in questa intervista. Allora, io evito di dire depotenziamento. Il depotenziamento che ci sta nell'ospedale di Sora equivale al depotenziamento che esiste negli ospedali di Cassino e di Frosinovo e di tutti quelli del Lazio. Il Lazio è una regione commissariata. Sta uscendo dal commissariamento. Zingaretti ha detto che dal gennaio del 2016 si potrà accedere a delle nuove assunzioni. Pertanto la paventata chiusura dell'ospedale di Sora, paventata perché non è stata mai dichiarata. C'è stata una lettera giusta di un primario del reparto di Ostertice che ha lanciato un grido di appello per dire non ce la facciamo più, io se non ho rinforzo chiuderò il reparto. Da questa è nata tutta la storia. Io ho sempre avuto contatti strettissimi con la professoressa Mastrobuono e con il direttore sanitario Testa, i quali mi hanno sempre smentito la volontà di poter chiudere. Poi naturalmente la popolazione ha ritenuto di poter manifestare, bene ha fatto perché è sempre meglio non abbassare la guardia, però io ho sempre tranquillizzato. Proprio ieri, nella giornata di ieri, ho richiamato, dove mi è stata data ampia assicurazione che non verrà chiusa nessuna parte, che verranno mandati naturalmente dei medici in aiuto all'ospedale di Sora. Quanto riguarda invece il reparto oncologico? Allora, la breast unit che la professoressa Mastrobuono ha sempre dichiarato di voler attivare e iniziare, credo che verrà, come del resto scritto nell'atto aziendale, in settembre verrà attivata e quindi si partirà anche con questa caratterizzazione dell'ospedale di Sora che è un ospedale oncologico.